era un programma segreto del governo conosciuto come progetto destino è un'arma che genera eventi sismici mirati creato per usare i terremoti contro il nemico lettura sismica in corso era un'arma perfetta irrintracciabile destino pronto finché un giorno accadde qualcosa è una super tempesta elettrica sta sconvolgendo il mondo semplificherò più che posso moriremo entro un anno il nucleo della terra ha smesso di ruotare la rotazione del nucleo ci protegge dalle radiazioni cosmiche senza di essa le radiazioni creeranno super tempesta le microonde cuoceranno il nostro pianeta come è potuto succedere è stato il progetto destino abbiamo ucciso il pianeta ok come lo fermiamo non si può il nucleo è come marte si tratta di far rinascere un pianeta ma se potessimo ecco la vostra leggendaria navicella quanto costa prepararla in tre mesi 15 miliardi di dollari accetta segni devi controllare il flusso delle informazioni vuoi che entri nel pianeta mi servono video di star track e panini sei bravo lo sei in tutto non in ciò che non so siamo addestrate a salvare il mondo è impossibile sono venuto a salvare mia moglie e i miei figli spero di avere tanto coraggio per salvare tutti e tre non vedo l'ora di andare al centro della terra con una navicella mai testata far ruotare il nucleo con mille megatoni di armi nucleari e vincere l'onda d'urto più grande della storia dannazione san francisco in rovina la costa ovest è distrutta accade prima di quanto pensassi due uno stiamo entrando attenti alla forza di gravità chiunque arrivi al nucleo non tornerà stiamo perdendo ossigeno perdita abbiamo un lavoro da fare facciamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.